Sabato pomeriggio all'Istituto Testa Secca di Viale della Regione si è tenuta l'Assemblea Provinciale di Italia Viva. Diversi i temi di confronto e dialogo. All'Assemblea erano presenti il parlamentare nazionale Davide Faraone, i coordinatori provinciali Giuliana di Prima e Giuseppe Ventura e il coordinatore cittadino Salvatore Amico. Assende causa influenza la coordinatrice provinciale di azione Federica Giorgio. Tra il pubblico presenti anche l'ex sindaco di Caltanissetta Salvatore Messana e l'ex vice sindaco dell'Aggiunta Rubolo Felice di Erna.